Sarà l'autopsia a stabilire le cause del decesso di una donna di 54 anni all'Aquila ritrovata all'interno di una casetta di legno tra San Francesco e Colle Brincioni. La donna ha 54 anni ed è stata ritrovata nel tardo pomeriggio di ieri all'interno di una casetta di legno ufficialmente disabitata nella zona tra San Francesco e Colle Brincioni. A ritrovare il corpo senza vita della donna, il proprietario della casetta, che per puro caso si era trovato a passare nell'abitazione non utilizzata. L'uomo ha dato subito l'allarme alle forze dell'ordine e sono arrivati i uomini della squadra volante e della scientifica. La procura, ovviamente, nella persona del sostituto procuratore Fabio Picuti, ha disposto l'autopsia. Sembrerebbe un malore, ma solo questa farà luce sulle cause. Stando alle prime indagini, sembra che la donna utilizzasse questa casetta di legno per trovare riparo durante la notte, ma sono ancora tanti i punti su cui far luce.